La Chiesa è composta del numero completo degli eletti, tutti coloro che sono stati, che sono e che saranno raccolti insieme sotto Cristo il suo capo. Questa Chiesa universale è la sposa, il corpo, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Tutte le persone di ogni parte del mondo che professano la fede nell'Evangelo e l'obbedienza a Dio per mezzo di Cristo secondo l'Evangelo e che non inquinano la loro professione con errori che contraddicono e sovvertono i principi fondamentali dell'Evangelo o con comportamenti malvagi sono santi visibili e possono essere considerati come tali. Ogni congregazione dovrebbe essere composta di tali persone. Il Signore Gesù Cristo è il capo della Chiesa, per ordine del Padre, Egli è investito in modo supremo e sovrano di ogni autorità per la vocazione, l'istituzione, l'ordinamento e il governo della Chiesa.